A Metauria di Fano conclusi i lavori delle nuove scogliere, un intervento che metterà in sicurezza circa un chilometro di costa, intanto l'assessore Aguzzi annuncia altri 4 milioni di euro per concludere i setti fino a Torrette. Il centro disabili di Mondolfo verrà intitolato a Donald Demiro Giuliani, domenica la cerimonia nella struttura per omaggiare il sacerdote, amato da tutti a due anni dalla sua scomparsa. Nuova area camper di Viale Kennedy a Fano, la giunta approva il progetto esecutivo e i lavori inizieranno nel 2023, previste anche le asfaltature e una nuova pista ciclabile. Da zero a imprenditore, prende il via giovedì 10 novembre la nuova edizione di Digitalens, il progetto destinato a 150 giovani seguiti da specialisti e figure di riferimento del settore. Pubblico istruito e con una buona capacità di spesa, presentata l'indagine di Domenico Alfano sulla decima edizione di Passaggi Festival. Quattro visitatori su dieci sono turisti e la platea è costituita per il 60% da donne e da un pubblico over 40. Nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia, benvenuti sul canale 19 di Fano TV. Come avete sentito dal nostro sommario, conclusi i lavori di difesa della costa Metauriglia di Fano, a sud della foce del fiume Metauro. L'importo complessivo del progetto è stato di 4 milioni di euro e intanto l'assessore regionale Aguzzi annuncia altri fondi per completare le scogliere fino a Torrette. Sentiamo. Presentati questa mattina alla fine dei lavori di difesa del litorale a sud della foce del fiume Metauro a Fano. Un intervento dal costo di 4 milioni di euro che andrà così a mettere in sicurezza circa un chilometro di costa. Questa operazione risolverà i problemi che la zona aveva da tempo, compreso il tratto di ferrovia esposto continuamente alle mareggiate. Dobbiamo ringraziare la regione Marche che ha finanziato parzialmente questa attività, RFI che ha contribuito con 2 milioni di euro circa alla realizzazione di queste scogliere, ma anche chi ha eseguito i lavori, la ditta, la slimar, il provveditorato opere pubbliche che ha fatto il progetto, ha fatto la direzione dei lavori, il comune di Fano che comunque ha seguito sempre il progetto, ma anche gli altri enti che ci hanno permesso di poter lavorare quest'estate senza soluzione di continuità praticamente, in quanto a parte la sosta in agosto abbiamo sempre lavorato. Poi dobbiamo ringraziare davvero tanto tutti gli organi, la regione Marche, l'ARPAM, la Capitaneria di Porto che hanno consentito che questo sforzo potesse essere effettuato nei tempi che abbiamo stabilito. Siamo molto contenti anche perché rispetto anche a alcune polemiche che sono arrivate attraverso il vostro canale di un residente, possiamo dire oggi che tutto quello che veniva annunciato non si è verificato, anzi possiamo dire oggi che già in questo momento e già soli alcuni mesi dalla realizzazione del scogliere già la spiaggia di Metauriglia si è ricostituita con la sabbia. Alla presenza dei protagonisti che hanno collaborato alla realizzazione di questo tratto, a prendere poi la parola è stato il sindaco Seri che ha sottolineato la soddisfazione e l'importanza di questi lavori che porteranno alla città due benefici, il primo la sicurezza dall'erosione della costa, mentre il secondo un'occasione di sviluppo turistico per Fano. Un primo intervento dunque di un progetto più ampio, infatti il secondo lotto di scogliere andrà a congiungersi fino a Torrette. Qui nella zona dalla foccia del fiume Metauro verso sud le scoglie erano molto vicine alla riva, di fatto impedivano o quasi la fruibilità delle spiagge. Di conseguenza è stato fatto ormai, da diversi anni, un progetto complessivo di spostamento, appunto si chiama salpamento, di queste scogliere a riva ed allontanarle e metterle in linea con quelle di Torrette. Complessivamente il progetto prevedeva circa 8 milioni di investimento. I primi quattro sono stati messi in opera, due con fondi della regione Marche, due con fondi delle ferrovie dello Stato e oggi ne vediamo appunto la fine di questo primo stralcio che è venuto anche molto bene. Quello che io annuncio oggi è il finanziamento da parte del mio assessorato della regione Marche di altri 4 milioni per completare questo intervento ed arrivare fino all'allineamento con le scogliere di Torrette. Questo primo stralcio ha messo in sicurezza, a parte la foce del Metauro, qui il camping dove siamo posizionati e la ferrovia, però non ha messo in sicurezza le concessioni balneari. Ci sono tre o quattro concessioni balneari immediatamente a sud che sono rimaste diciamo così come erano organizzate prima con le scogliere vicino alla ferrovia, quindi una spiaggia poco funzionale. Questo stralcio che invece andremo di nuovo a finanziare per altri 4 milioni consentirà anche a queste zone che hanno delle concessioni balneari di poter fruire di nuove scogliere e di queste spiagge indubbiamente più funzionali in prospettiva. E ora ci spostiamo a Mondolfo dove l'amministrazione comunale ha deciso di intitolare a Don Aldemiro Giuliani il centro per diversamente abili la Rosa Blu. Amate la gente che soffre, ci sono tante persone che soffrono e pochi si interessano a loro, amate chi sta male in ogni senso. Un saluto a tutti i mondolfesi, a tutti i malati, al personale dell'ospedale di Fano e agli orfani dell'orfanotrofio di Senigallia. Nelle parole che Don Aldemiro Giuliani ha lasciato nel suo testamento spirituale c'è anche la testimonianza diretta del profondo legame che ha avuto con la comunità di Mondolfo. A distanza di meno di due anni dalla scomparsa dell'ex parroco, per molti anni anche cappellano prima all'ospedale Bartolini e poi al Santa Croce, il ricordo è ancora vivido nel cuore di chi lo ha conosciuto. A lui l'amministrazione comunale di Mondolfo ha deciso di intitolare il centro socioeducativo riabilitativo La Rosa Blu che favorisce l'integrazione sociale dei disabili prevenendo fenomeni di devianza e di marginazione attraverso attività sociali, culturali e ricreative. Domenica 30 ottobre intitoleremo il centro di urno La Rosa Blu a Don Aldemiro Giuliani, una struttura d'eccellenza per il territorio nata circa 30 anni fa grazie anche al suo impegno e che svolge un servizio importante per le famiglie e i ragazzi in situazioni di difficoltà. La cerimonia pubblica sarà il tributo di tutta la nostra comunità alla memoria di una persona straordinaria che era sempre pronta ad aiutare chi aveva più bisogno e che ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la nostra cittadinanza. L'iniziativa pubblica si svolgerà a partire dalle ore 9 con una messa di suffraggio nella chiesa di Sant'Agostino. Seguirà nei locali di Viale Vittorio Veneto l'intitolazione della struttura all'amato parroco. Durante la cerimonia, accompagnata dalla presenza del corpo bandistico Santa Cecilia, interverranno l'amministrazione comunale, la cooperativa Casa della Gioventù, le famiglie e i ragazzi della Rosa Blu nonché rappresentanti delle associazioni locali di volontariato. L'evento si chiuderà con una preghiera di benedizione del centro. Sarà un momento importante e condiviso per ricordare questa figura che ha fatto della sua umanità prorompente e della sua vicinanza autentica ai più fragili una missione di vita. E torniamo nuovamente a Fano perché entro la prossima primavera verrà realizzata una nuova area camper in Viale Kennedy. L'assessore Barbara Brunori ha annunciato anche una nuova pista ciclabile, lavori di asfaltatura e servizi igienici nel secondo stralcio di lavori. Assessore, è stato approvato un altro progetto atteso dalla città? Un altro progetto significativo che è appunto quello della realizzazione di una nuova area camper dove saranno previste 13 nuovi postazioni appunto per camper che si aggiungeranno alle 5 che sono del parcheggio adiacente. È naturalmente un impegno importante non tanto per una questione economica che si tratta di 203 mila euro di cui 40 mila euro ha messo il comune e 163 li abbiamo ottenute grazie a un finanziamento dell'ITI ma quanto per quello che è il servizio che verrà dato ma anche per il riordine di quello che è l'area attuale del parcheggio. Un'area che spesso è stata diciamo sottoposta a critiche per quanto riguardava il degrado e anche il cattivo utilizzo dei camper. Bene, questa è l'occasione invece per restituire civiltà a quello spazio e per restituire anche dei nuovi posti auto a perché noi residenti di Viale Kennedy ma anche i cittadini che vogliono parcheggiare e mettersi in connessione con quella che poi la città è il mare. Nel dettaglio quali lavori verranno realizzati? 13 appunto postazioni per camper e su una pavimentazione completamente di autobloccanti filtranti questo proprio per mantenere la stessa versatilità di permeabilità del terreno e avremo anche delle colonnine proprio per fornire dell'energia elettrica. Parliamo quindi di tre colonnine, 15 nuovi punti luce, 13 alberature e un'area attrezzata in tutto e per tutto insieme anche a quello che sarà poi un servizio di raccolta reflui, di lavaggio di serbatoi e di carico di quella che è l'acqua potabile. Per cui ecco per noi è una risposta importante. È un primo straccio naturalmente di quello che sarà poi un intervento definitivo perché l'area invece destinata sarebbe proprio per 33 stalli. L'area poi da chi verrà gestita? La daremo sicuramente in gestione proprio per legittimare anche quello che è il servizio che vengono a ricevere i camper e che poi nel secondo straccio dei lavori vedrà sicuramente anche la realizzazione di quelli che sono i servizi igienici. Le strade che circondano il parcheggio verranno asfaltate? Sì, quella in continuità di via della giustizia la faremo adesso con il milione e mezzo che abbiamo a disposizione, quel tratto che andava a chiudere e inoltre poi ci sarà l'importante intervento invece su Viale Kennedy per la realizzazione della nuova pista ciclabile, quindi una pista più ampia con dei cordoli, con anche proprio con una sistemazione, un ordine nuovo di parcheggi che saranno appunto a spina di pesce che daranno maggior sicurezza sicuramente a quella transitabilità. Quando partiranno i lavori? Prossimo anno perché adesso c'è la gara e quindi i primi mesi del prossimo anno tutto cambierà. Mercoledì 2 novembre inizieranno a Fano i lavori di asfaltatura nel tratto che va dall'incrocio di via Campanella e strada località Chiaruccia, cioè la strada della cooperativa Tre Ponti di Fano fino alla cavalcavia della superstrada e alla rotatoria di via Turati che porta alla E78 e alla Saipem. Per permettere l'intervento verranno apportate delle modifiche alla viabilità. Sarà garantito il senso di marcia da Rosciano verso la zona industriale, mentre sarà interdetto il senso di marcia opposto in uscita dalla zona industriale verso Rosciano, per intenderci dalla Saipem al Codma, con obbligo di ingresso alla superstrada o ritorno via Einaudi o in via Tognolo. Inoltre sarà interdetto il transito nella strada comunale Petruccia, la strada a senso unico sul retro della Saipem che si collega al cavalcavia, con obbligo di svolta in via Turati. La fine dei lavori è prevista per giovedì 10 novembre. E come ogni sera diamo spazio alle vostre segnalazioni, i reporter di strada questa sera ci portano in piazza Andrea Costa per sporcizia e degrado. Come vedete da questo video, oltre ai rifiuti gettati a terra e non solo, la pavimentazione è infestata dal guano dei piccioni. È vergognoso, ci ha scritto il segnalatore, e più persone presenti al mercato del pesce hanno fatto questa stessa osservazione. L'ufficio igiene non fa controlli, spero, ha concluso il reporter, che qualcuno prenda provvedimenti. E dopo il successo della prima edizione, torna il progetto finanziato dalla Regione Marche che si rivolge ai giovani in cerca di occupazione che ha l'obiettivo di inserire aspiranti imprenditori in un percorso di formazione per essere più competitivi. Sentiamo. Un esempio di come le opportunità imprenditoriali, le opportunità di business, anche le opportunità di ottenere profitti, si nascondono spesso in quelle che sembrano delle minacce. È pronto a partire con la seconda edizione Digitalens, cioè talenti digitali, il progetto dedicato alla formazione di giovani imprenditori che verranno accompagnati nel percorso di realizzazione della loro start-up. Giovedì 10 novembre al Tagotel di Fano sono attesi 150 ragazzi che avranno la possibilità di confrontarsi con relatori di livello nazionale e ascoltare esperienze fornite da aziende leader nel proprio settore. Il tutto sotto la guida dei curatori del progetto che è finanziato interamente dalla Regione Marche, cioè BP Cube, W Academy, Università di Urbino e Manifattura. Entriamo nei dettagli di come questi giovani potranno avere una dota di informazione per trasferirle nel mondo del lavoro. Ricordo al nostro partner principale e socio anche di BP Cube che è il gruppo Med Group, Med Group Holding, cioè rete di oltre 30 negozi in Italia di prodotti Apple e chiaramente la tecnologia è un indicatore. Sappiamo benissimo come i grandi gruppi, i grandi brand stanno andando verso quello che è realtà aumentata, verso quello che sarà il metaverse, quello che saranno i visori, il futuro e perché impattano in maniera molto forte, molto verticale in tutte le nostre aziende, in tutte le nostre strutture che vediamo tutti i giorni. Questa prima giornata sarà utile per individuare i ragazzi fra i 18 e i 34 anni in possesso di diploma o di laurea che potranno accedere al progetto, il quale prevede campagne di informazione, laboratori, tirocini formativi di orientamento e preparazione. Sono previsti incontri, tutoraggio e consulenza da parte di specialisti e figure di riferimento del settore. Devo fare un'osservazione, i giovani sono molto, come dire, abituati ad utilizzare le tecnologie, diverso è invece la loro conoscenza rispetto alle tecnologie che entrano in azienda. Nella prima fase di cui abbiamo già parlato abbiamo notato che spesso ignorano molte di queste tecnologie e soprattutto la loro applicazione pratica. In questa iniziativa vogliamo dare loro anche questi strumenti. Enrico Battistelli e Paolo Tafini apriranno l'appuntamento del Tag Hotel presentando ai ragazzi il programma e i relatori che si alterneranno durante la giornata che sarà moderata da Mario Moroni, imprenditore digitale. Tra i temi che verranno trattati, il linguaggio 3D, le tecnologie moderne, gli impatti sul mercato, strumenti di ingaggio e marketing, i riflettori si accenderanno anche sulle storie di start-up. A Claudia Annofrini, Giulio Guidi, Francesca Cesaroni e Francesca Martinuzzi di Uniurb, il compito di approfondire i contenuti della fase formativa che seguirà il primo evento. Promuovere l'imprenditorialità cosa significa? Prima di tutto stimolare i giovani a sviluppare quelle competenze trasversali che servono ai futuri imprenditori ma servono anche nella vita quotidiana, nella vita professionale in genere. Quindi parlo di proattività, creatività, capacità di confrontarsi con l'incertezza, capacità di ragionare in termini progettuali, essere innovativi, quindi sono competenze trasversali fondamentali, indispensabili per chi poi decide di dedicarsi effettivamente all'attività di impresa creando una nuova attività. Nei mesi successivi poi i ragazzi che hanno partecipato all'appuntamento del Tag Hotel effettueranno incontri sia in presenza che online, oltre alle altre attività. A valle di questa fase saranno selezionati i giovani e le idee che potranno accedere ai piani di tutoraggio. Noi siamo una business school e quindi cerchiamo di trasferire tutte quelle abilità e competenze che servono ai giovani per inserirsi nel mondo del lavoro. Lo facciamo attraverso una formazione liquida, quindi data da lezioni che abbiamo erogato nella prima edizione in metaverso, poi l'abbiamo fatta attraverso l'accompagnamento di alcuni testimoni, quindi di alcuni imprenditori che sono venuti a far formazione, perché comunque il nostro motto è chi sa fare insegna, e lo facciamo attraverso un'attività di orientamento, quindi orientiamo gli studenti per capire quali sono le loro migliori potenzialità. Sulla pagina Facebook Digitalens Marche e sul sito di BP Cube sarà possibile restare aggiornati sugli sviluppi del progetto. Il nuovo paradigma è anche quello dell'economia circolare, su questo noi crediamo fornamente e pensiamo che anche il digitale, la digitalizzazione sia importante per far crescere il livello di quelle che possono essere le competenze. Abbiamo bisogno di giovani, quindi per noi il progetto digitale è fondamentale proprio per aumentare anche il livello di conoscenze e di tecnologia per una transizione ecologica. E domani alle ore 18.30 la Chiesa del Suffragio di Fano ospiterà Adam Feinstein, acclamato biografo e traduttore del Premio Nobel Pablo Neruda. L'autore presenterà il suo libro che narra della sua esperienza lavorativa con il poeta cileno, grande amante dell'Italia. Ci sarà un momento di lettura e uno di dibattito con il poeta Loris Ferri, la blogger Katie Webb e la poetessa Frida Neri. Invece sabato 29 ottobre ad Ancona si terrà una manifestazione regionale contro la guerra, indetta dal Comitato No Guerra No Nato unitamente ad altri soggetti politici e di movimento. Gli obiettivi dell'iniziativa, hanno spiegato gli organizzatori, sono quelli di avviare trattative serie, ribadire il no all'invio delle armi in Ucraina e alle sanzioni alla Russia, ritirare i contingenti militari della Nato dal territorio ucraino e ai confini con la Russia. Siamo per un'Italia fuori dalla guerra e dalla Nato, sovrana e neutrale, si legge nella nota. Siamo per un nuovo ordine internazionale fondato sui principi della Carta delle Nazioni Unite, di fatto disapplicati e sostituiti dalle regole non scritte e imposte dal blocco imperialista dell'Occidente Euro-Atlantico, campeggiato dagli Stati Uniti. L'appuntamento, sabato, è per le ore 16 al passetto. Il corteo poi proseguirà fino a Piazza Cavour. E ora passiamo ad un'indagine realizzata sulla decima edizione di Passaggi Festival. Dai dati è emerso che il 60% dei partecipanti è donna e che il 55% del campione si è dichiarato disponibile a pagare un biglietto. Dati significativi anche quelli che riguardano l'impatto economico e sociale che genera il Festival. L'undicesima edizione si svolgerà a giugno del 2023, ma senza estendere le iniziative nel comune di San Costanzo per mancanza di risorse. Dati anagrafici, consumi culturali e spesa turistica del fruitore di Passaggi Festival 2022. Sono queste le sezioni sulle quali si è concentrata l'indagine promossa da Passaggi Cultura e svolta da Domenico Alfano all'interno di un master dell'Università di Bologna in valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale. L'indagine è stata condotta somministrando un questionario cartaceo con 29 quesiti ad un campione eterogeneo di spettatori durante 18 presentazioni librarie. In totale sono state coinvolte 688 persone. Dai risultati illustrati questa mattina è emerso che l'utente medio della decima edizione dell'evento, in due casi su 5 proviene da fuori città, di questi oltre il 28% è originario delle altre regioni d'Italia. La platea invece è stata costituita per il 60% da donne e per il 40% da uomini, inoltre la metà del pubblico che ha assistito agli incontri possiede una laurea e solo un fruitore su 5 ha partecipato ad altre iniziative culturali simili nell'ultimo anno. In tanti poi sono favorevoli all'acquisto di un biglietto d'ingresso, i dati dimostrano che chi si dichiara disponibile a pagarlo è mediamente un accanito lettore, mentre chi non è disponibile legge da 1 a 3 libri all'anno. Un'importante informazione che è emersa da questo sondaggio è che oltre una persona su due sarebbe disposta a corrispondere a una cifra per poter assistere agli incontri del festival, diciamo circa il 55%. Questo ha denotato una certa partecipazione della platea che si sente talmente coinvolta che probabilmente sarebbe anche disposta a pagare. I libri invece sono stati acquistati nei giorni del festival? Certo, sono stati acquistati, la platea è stata molto coinvolta dopo le presentazioni ad acquistare il libro, soprattutto ad effettuare il firma copie, circa 2 persone su 5 della platea ha dichiarato di aver acquistato libri al termine della presentazione. Interessanti anche i dati sulla spesa media sostenuta dai non residenti, quella per l'alloggio ammonta 76 euro circa pro capite, quella per bar e ristoranti è di 59 euro, mentre per lo shopping di 63 euro. Anche per i servizi balneari un turista su 5 ha speso in media 73 euro, dunque un impatto più che positivo sia in termini sociali che economici. Ringrazio veramente Passaggi per questo grande lavoro, cioè capire qual è l'effettiva ricaduta degli eventi, in questo caso del festival Passaggi, nella città di Fano per noi è fondamentale. Uno per continuare a investire, perché altrimenti abbiamo questa sensazione che come amministrazione ma anche gli sponsor privati che intervengono diano delle economie ma non si sa finalizzate a che cosa, attivare dei percorsi di questo tipo di valutazione degli eventi per noi diventa fondamentale ed è una cosa che dobbiamo fare un po' con tutte le attività per avere il coraggio di investire di più sapendo che quelle economie sono ricadute effettive nel comparto turistico, nel comparto commerciale, nella crescita sociale e culturale della città. Questa tra l'altro è una delle tre indagini a cui abbiamo partecipato. La prima, Effetto Festival, è un'indagine nazionale che riguarda i 4 o 5 eventi più importanti d'Italia e quest'anno ci hanno chiamato a farne parte. Poi c'è il sondaggio sugli hotel, sulle strutture alberghiere che conduce il consorzio albergatori di Fano e infine c'è questo sondaggio che ha fatto questa indagine sul territorio, sul campo, intervistando quasi 700 persone, che ha fatto Domenico Alfano insieme ad altri studenti, ma era lui che guidava il gruppo del master di valorizzazione turistica dell'Università di Bologna. Per noi è uno strumento importantissimo perché ci spiega, ci dice qual è il profilo del visitatore medio del festival. Quindi è importante perché poi quando uno decide il programma, le iniziative, gli orari, eccetera, questi dati sono fondamentali per rendere il più appetibile possibile il festival. Le dati del prossimo anno sono già state decise? Sì, sono 21-25 giugno, quindi si aprirà mercoledì e si chiuderà domenica. Torniamo nella formula più classica dopo i fuochi artificiali della decima edizione, però sarà comunque un'edizione da fuoco artificiale, ve lo garantisco. E quindi rimarrete nella città di Fano? Rimaniamo nella città di Fano dove abbiamo una convenzione fino al 2024 e poi vedremo. Questa era la nostra ultima notizia, subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire le programmazioni di Fano TV. Domani mattina alle ore 7 invece la rassegna stampa Occhio ai giornali. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie per aver guardato il video.